Signori e signore, è con tanto piacere che vi annuncio la moto di Steph 2017, siete pronti a vederla, è un capolavoro per tutte le persone di questo mondo, è la moto più bella di tutte e di sempre e permette di fare l'instant con la stessa bravura di Steph il magnifico, quindi vale la pena comprarla, guardate qua che meraviglia! Bella, bella, l'hai fatta bene! Guardate che rifiniture, che colori accesi e che cattiveria, posso lanciare i missili fuori! E ragazzi come va? Io sono Fiera e Niki! E io sono Steph e chiesto di chiama GTA V! E oggi siamo qua in un video molto particolare perché sarà tutto dedicato alla moto volante di Steph e la metteremo alla prova per vedere se riuscirà a superare delle prove impossibili, ti senti all'altezza? Ma per favore, ma per favore, su, 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 sono già pronto, guardate, allora prima di tutto è bellissima, ho visto che potevo modificarla con la ricerca ho potuto aggiungere i missili al posto di quella mitraglietta che faceva abbastanza schifo. Voglio sapere che in tutto in questo periodo che non abbiamo fatto GTA, Steph è rimasto fermo al PC a fare ricerche per poter avere armi belle, per poter avere questa moto così finissima modificata. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Ha giocato un sacco! Allora, la prima prova che dobbiamo fare, ormai la potete già immaginare, allora ti leggo proprio il commento e ti dico anche di chi è. Cristian Cipollini ci dice, si può fare, vai nelle paleoliche e con la moto che vola come l'hai fatto con l'elicottero. Si è ricordato la challenge che avevamo fatto con l'elicottero? E mi ha sfidato nel farla con la moto. Questa è la propria sfida, ti ha lanciato una sfida che non puoi rifiutare. E io sono pronto, preoccupato, ma pronto. Allora, io la vedo male, un po' male come è stato con l'elicottero, capito? Eh, lo so, lo so, lo so, però con le moto almeno mi sento a casa, quindi teoricamente ho qualche chance in più. Allora, vado proprio dall'inizio così ne posso fare anche magari due o tre di fila, sono abbastanza ottimista qua. Lo spero, lo spero. 3, 2, 1, andiamo! Vai, va là! Ok! Ok! Uh! Ma questa è fortuna! Però vale! Però vale! Questa è fortunissima! Uh! Ok! Ok, due! Uh! Un e mezzo! No, non mi ha toccato! Due e mezzo! Tre! Guarda che queste sono tre! 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 Allora, purtroppo per ricaricare il turbo bisogna sempre toccare per terra, perché se non fosse per quello, secondo me riusciresti a farne anche parecchie di fila, eh! No, ma... Ce la potresti fare! Alla seconda ho fatto, mamma mia, più di così non mi posso ferrare, alla tre mi ha tagliato i capelli! Sì, sì, hai fatto un nuovo taglio delle paleoliche! Ottimo! Ho avuto paura! Let's go! Allora, numero uno! Andata! Andata! Vai! Numero due! Uff! Andata! Ok, questa dovrei riuscire a farla, dovrei essere abbastanza in alto! Oh! Tre! Di nuovo tre, di nuovo tre, andate! Tocchiamo terra e riporto subito! Tre, due, uno! Andiamo! Guarda qua questa ferma, Ferre! Guarda che bravo che sono! Precisissimo! Quattro! Quattro e siamo a sette totale! Uuuuuh! Dai, anche con la nove! Paracadute! Uuuuuh! Questa ti ha preso proprio nella schiena! Ma... E' stato bellissimo! Ho sentito il... Pum! Ho visto anche il rumore! Ok, però è fattibile e se ne possono anche fare tante di fila! Per di più è anche divertente perché ne fai un po', a te rimetti il turbo e te ne fai altre! Anche perché è un'ottima prova di abilità, quindi è divertente anche solo quel punto di vista! E' il nuovo sport che andrà di moda quest'estate, Ferre! Alle olimpiadi! Sì! Moto volanti! Sì, le prossime olimpiadi ci sarà Steph con la moto volante! Lo proponiamo! Prima devono costruirmi la moto, in effetti! Eh, in effetti sì! Questo è totalmente un si può fare, però ce l'hanno chiesto e sono curioso anche io! XrebiXvelea ci chiede! Ok! Scusate se ha sbagliato lì! È molto particolare! Si può accendere la benzina con la moto volante? Perché ti ricordi che noi l'avevamo fatto con la marmita di una macchina? Sì! Con questo turbo! Sì, sì, sì! L'accendiamo? Prova, ce l'hai una tannica, ce l'hai già? Dovrei, spero di sì, perché altrimenti ci dobbiamo andare a fare una bella gittina! Questa è bella, questa è bella! Dai, ti prego! Non ce l'hai, vero? No! Andiamo a comprare! Ma perché non ce l'ho mai? Ma perché non serve! È sempre utile! In effetti bisogna ricordarsi che quando facciamo rifugio di armi, dobbiamo prendere anche un po' di tannica! Ce n'è una abbastanza vicina con la mia moto bellissima, mentre vi faccio un po' di trick, tipo... Allora, non ti schiantare! Sto andando storto, sto andando storto! Arriva nel negozio, stanno e salvo, ti prego! Allora, mi sono allenato su una cosa! Praticamente tu tocchi sbalzando tipo così e riesci a rivolare, ti si riaccumula però il turbo e riparti! Eh, quindi se lo fai un po' abbastanza, ha ben atteggiato! Allora, devi fare tipo ta, ta, riparti mentre si accumula il turbo e te lo rispari! Ok, sì! È interessante, è una cosa bellina, è una cosa molto molto carina! Buongiorno, signore! Devo provare ad accendere un fuoco con la mia moto volante! Sì, è un po' strano, lo so, è un po' strano, ha ragione, ha ragione! Però, devo fare queste cose, ci hanno chiesto i consolini, proviamo a comprare una tannica e a vedere se fa! Fer, e tu che dici? Secondo me sì! Secondo me no! Secondo me no! Perché secondo me sta troppo in alto il turbo rispetto alla benzina che sta per terra! Allora, fai una cosa! Dimmi! Ok, metti fuoco, cioè la benzina, su quella macchina là, e tu ti metti a... No, allora, prima voglio provare a terra, dopodiché, se a terra non funziona, proviamo proprio in quel modo! Ci avevo già pensato anche io! Ci passo proprio sopra col turbo! Sì, sì, vai! Vado? Ok? Adesso dobbiamo... No, non ti farei complimenti! Allora, no, allora, ta! Ok, noi adesso freniamo, giriamo il più in fretta possibile, torniamo lì, e... No, 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 no! Niente! Non si spegne così in fretta al fuoco, l'abbiamo visto provando altre cose! Esatto! Non si spegne... Sì, troppo in basso purtroppo! Avevo ragione io, perfetto! Vediamo se invece, mettendola qua, nella macchina... Proprio sopra... No, sta lì sopra, al tetto! Eh, lo so, sì, 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 sì! Così tu la metti tutta qui sopra, esatto, bravo! E così, cioè, se può accendere il fuoco... Sta facendo un buon lavoro, Fere! Sì, se può accendere il fuoco così, la deve prendere perfetto! Vediamo, vediamo, vediamo! Vado, Fere! Aiuto, vai! Aspetta! Però ha preso fuoco! Ha preso... Ha preso fuoco! Quindi si può mettere fuoco, ma deve essere ovviamente all'altezza turbo! Sì, scusami! Però, secondo me, il protagonista di questa scena non è stato il fuoco nella macchina! Ma io che sbatto su una macchina e torno perfettamente al punto di patenza! Perfetto è il fuoco! Hai fatto un mo' di pallina, capito? Boom, boom! Sì, è una pallina che rimbalza! Adesso, invece, ci hanno proposto, e questa è una sfida, allo stesso tempo non si può fare, ma è prevalentemente una sfida! Ci hanno chiesto, può la moto scalare un edificio e, tra parentesi, un palazzo? È stato Pietro Englaro, e io sono pronto a provare a salire sopra un palazzo, partendo da terra, e per vedere se possiamo scalarlo! Voglio provare per di più in due modi, quindi sarà un doppio test! Mi avete proposto questa sfida? Beh, ho scelto anche un palazzo abbastanza alto, devo dire! E dici, dai, due piani! Due pianeti giusti giusti! Allora, siamo pronti, Fere? Sì, sì, sono curiosa! Ci sono due modi in cui io voglio provare a salire su un palazzo, il primo è il classico, cioè vado dritto, volando, e cerco di atterrare sopra, il secondo è attaccarsi al palazzo! Eh, io pensavo volessi, allora, palazzo e moto che fa così, in verticale! Quello è il secondo modo, perché teoricamente col turbo ci posso riuscire! Ok, sì, 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 vai! Andiamo, andiamo, andiamo! Ok, è un bellissimo volo, ma non abbastanza, ma non abbastanza! Allora, aspetta che lo cerchi di sopravvivere, no, sono morto! No, no, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai! Allora, con un palazzo più piccolo però ce la fai al 100%! Sì, con un palazzo più piccolo ci sali proprio facile facile, però con un palazzo così... Non so cosa è successo! Sono accese le luci! Con un palazzo così grande non riesci a salire in una sola botta! Quindi vediamo se con un palazzo così grande possiamo attaccarci e salire! Beh, no, è giusto provarlo con i palazzi grandi! Devo scalarlo! Perché se no è troppo semplice! Devo scalarlo! Vai, vai! Mi rida il turbo! Mi rida il turbo! No, cosa è successo? Forse in prima persona! Fai vedere? Oh, mamma mia! No, è ancora peggio secondo me! No, è peggio! Vado! Aiuto! Lo so! È peggio! Aiuto! Vai, 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 vai! Ho toccato? Sì! No, non me l'ha considerato! Ma come? Stiamo pre... Hai toccato! Non morire! Ok, tutto a posto! Non è successo niente! Ecco! 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 Adesso ho toccato! Vai! Aspetta! Vai! Eh, vabbè! Ce la devi fare! Non sai più dove sei! Esatto! Sto facendo pirulare! Ah, dove sono? Che succede? Dov'è il palazzo? Ferre, è questo? Quello, è quello, è quello! Vai, 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 vai! Dai! Pazienza! In un modo bruttissimo! Ma ce l'hai fatta! La cosa più epica e triste in contemporanea di sempre! Cioè, io non so perché quando tu vedi video di queste cose, ci sono persone, capito, che fanno sembrare le cose più difficili del mondo, stra-semplici, atterrano pure sgommando con scene fighissime, e poi c'è Steph! E poi c'è Steph nel mondo! E io non ho parole! Allora, io ho capito la situazione, è vero che non sarei riuscito a frenare, quindi mi schianto lì, almeno alla motoresta! E speriamo per i me! Perché pensavo di volar via io! O solo noi ci possono capitare queste cose, cioè se abbiamo proprio... Però... Il fallimento sta patato! Però abbiamo scalato un palazzo altissimo, Ferre, uno dei palazzi più alti! Mancherebbe giusto quello... Vai! Ma ci involo, vai! No, allora non ci arriverò mai! Sì che ci arrivi! No, ma che è quello più alto, guarda, lo sto già molto più basso di lui! Allora, questo, questo qua davanti! Allora, questo davanti ci arrivo, e se riesco ad usarlo come trampolino... Esatto, puoi partire per il prossimo! Ok, vado! Vai! Vai! Dai! Turbo! Turbo! Vai! Vai! Ci sei quasi! Accontentati di un balconcino, vai! Oh mio Dio! Aspetta! Se tocco... Tocca, tocca, tocca! No, 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 no! Oh, non si muore neanche! Vabbè, però dai, c'eri! Allora, fammi vedere, era questo? Sì, 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 era questo! Fede, siamo sicuri? Sì! Cioè, poi è tutto fatto a spigoletti, eh! Eh, lo so, lo so, infatti è difficile! Scusa, scusate! Non volevo, mi è sfuggito! Mi è sfuggito davvero! Ho grilletto facile, vai! Ok, andiamo! Allora, let's go! Let's go! Devo arrivare a toccare... Non ho toccato! No, non è toccato! Eh, perché ovviamente io voglio anche toccare piano piano! Certo, non ti puoi schiantare, certo! Ok! Buono! Però mi ha... Gira, 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 gira! Allora, a livello di altezza ci siamo! Sì, sì, stai stortissimo, ma ci sei! No, sto... No! No, però c'eri! Fa! Sì, fa! Se noi vogliamo, su una rampa normale... Ok! Con il turbo, così! Perfetto! Ok! Vogliamo! E dopo la rampa, teoricamente abbiamo riaccumulato il turbo e usiamo il turbo, quanto in alto andiamo? Eh, boh! Quanto in alto possiamo andare a fare? Prova una rampa e proviamo, dai! Secondo me, quella dell'aeroporto è la migliore! Fer! Questo video è fatto di cose epiche! Secondo me, possiamo fare il volo da una rampa più grande di sempre! Non lo so, vai! Il mio obiettivo, te lo dico, o è salire su un palazzo altissimo, come quello più alto, oppure arrivare fino alle montagne! È difficile, vai! Ok! Vai, ormai proviamoci, stiamo, proviamo direttamente, senza perderci in parole inutili, vai! Ok! Ok! Sognetevi! Ok! Eh sì, però non mi mettere così in quadratura! Vai, 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 di nuovo il turbo! Vai! Ok, ok, adesso dobbiamo soltanto planare! Soltanto planare e vedere fin dove arriviamo! Siamo partiti dall'aeroporto che è l'estremo massimo della città! Vediamo fin dove possiamo arrivare! Dobbiamo fare il nostro solito balletto, Fer! Sì, sì! Balla, 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 balla! Allora, alle montagne non si arriva! No, alle montagne no! Ok, l'ho già accettato! No! Però possiamo arrivare davvero fino alla città, secondo me! Magari proprio al centro, che comunque il centro dista tanto dall'aeroporto, eh! Quindi sarebbe già una bella soddisfazione! Sai cosa potevo fare? Mettere una meta per vedere quanti chilometri avevamo fatto! Vabbè, però aspetta! Metti la meta da dove sei all'aeroporto è la stessa cosa! Meno male che c'hai Ferro ogni tanto! Grazie! Ok! Stiamo per toccare... Qua! Ok, alla meta! Allora, vediamo un pochettino! Mi sa che ce l'avevo già, ed è anche nel punto giusto! Quindi abbiamo fatto un chilometro e settecento metri con un solo volo! In ogni caso, io direi che ci possiamo fermare così! Ovviamente, se volete vedere altre prove assurde con questo veicolo, proponeteci delle cose nei commenti! Vedremo un pochettino se farlo! Sondaggio per farvi... Per farci sapere! Non per farvi! Per farci sapere! Per farci sapere se vi è piaciuto questo tipo di video e noi ci fermiamo così! Per farci sapere se vi è piaciuto, lasciate un bel like! Questa è la prima volta che ho detto il nostro video e potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie per la visione!